Allora, per quanto riguarda questo esercizio, vogliamo risolvere e discutere il seguente sistema lineare al variare del parametro t. Beh, notiamo innanzitutto che qui la soluzione è data in questo modo qua. Allora, se t è diverso da meno 2 e t è diverso da 1, allora quella coppia lì, anche se può sembrare molto strana, è la soluzione del sistema, però perché, diciamo, dipende dal variare del parametro. Se invece t sarà proprio uguale a meno 2, oppure t sarà uguale a 1, allora il sistema sarà impossibile. Vediamo come possiamo risolvere questo sistema. Beh, i metodi sono tanti, si potrebbe procedere per sostituzione, per sottrazione, con Kramer, non lo so. Magari scegliamo Kramer, dal momento che vedo che il sistema è bello ordinato, scelgo di usare Kramer. Quindi, che cosa faccio? Vado a crearmi la mia matrice, quindi metterò t, meno t meno 2, poi 1 e t. In questo modo ho creato la matrice del delta. Quindi se vado a calcolare il determinante, moltiplicando questo e sottraendo questa altra moltiplicazione, che cosa avrò? Avrò t al quadrato meno meno t meno 2, che moltiplica 1. Quindi meno con meno fa più, e quindi ho semplicemente t meno 2. E in questo modo ho trovato il delta. A questo punto vado a crearmi le altre due piccole matrici, in cui nella prima colonna, questa volta, sostituisco la colonna dei termini noti. E quindi avrò meno 1, meno 2, e qui lascio la stessa colonna di prima, t meno 2 e t. Di nuovo, calcolo i determinanti in questo modo, moltiplico questi due e sottraggo la moltiplicazione tra questi due. Quindi avrò meno t, ora meno con meno fa più, però poi ci devo mettere un altro segno meno. E quindi avrò meno 2, che moltiplica t meno 2. Se adesso vado a sistemare meglio questa espressione, avrò meno t meno 2t più 4. E quindi, se sistema ancora meglio, avrò meno 3t più 4, che scritto in maniera ancora più compatta, sarebbe 4 meno 3t. E in questo modo ho trovato il mio delta x. Questo qui era il delta. E adesso finisco con il trovare delta y. Delta y sarà dato da. Qui metto, diciamo, la colonna originale, mentre qui metto la colonna adesso dei termini noti. e quindi avrò meno 1, meno 2t. Vado ad effettuare il solito prodotto incrociato, e quindi avrò meno 2t, meno meno 1, e quindi più 1. In questo modo ho finito, perché ho trovato il delta, delta x e delta y. E quindi il metodo di Kramer, in questi casi, per i sistemi 2x2 è molto comodo, perché è immediato. Non bisogna pensare molto, perché a questo punto x sarà data da delta x fratto delta. E quindi avrò 4 meno 3t fratto delta, che è proprio t quadro più t meno 2. Invece la y sarà data da y delta fratto delta, ossia 1 meno 2t fratto il valore del delta, che è dato da t quadro più t meno 2. E come si può vedere, queste qui sono proprio le soluzioni scritte, diciamo, nel riquadro in blu della soluzione. Ora perché dice se t è diverso da meno 2, oppure, insomma, diciamo, è t diverso da 1? Perché deve essere necessariamente questo? Perché se t è diverso da meno 2 e t è diverso da 1, è chiaro che il denominatore non si annulla. Perché? Infatti, noi nelle soluzioni, che cosa abbiamo al denominatore? Al denominatore abbiamo t quadro più t meno 2. E necessariamente ogni volta che noi abbiamo un denominatore, che cosa si fa? Si va a imporre che il denominatore debba essere necessariamente diverso da 0, altrimenti non ha senso, non ha senso fare la divisione per 0. Ma qui adesso come facciamo a trovare le radici di questo polinomio? Si potrebbe procedere naturalmente con il delta, ma non conviene, perché mi basta trovare due numeri, la cui somma è 1, il cui prodotto è meno 2, e quindi mi basta prendere 2 e 1. E quindi questa scrittura è equivalente a t più 2, che moltiplica t meno 1, uguale a 0. E adesso immediatamente, per la legge di annullamento del prodotto, che cosa avrei? t uguale, anzi facciamo tutti i passaggi, t più 2 uguale a 0 e t meno 1 uguale a 0. E beh, questo vuol dire t uguale a meno 2, e quest'altro vuol dire t uguale a 1. Ma poi, ricordando che noi stavamo cercando diverso da 0 e non uguale, andiamo a mettere tutti i simboli di diverso, e otteniamo proprio quello che c'era scritto nella soluzione. Cioè che t deve essere necessariamente diverso da meno 2, ma anche diverso da 1, altrimenti quel denominatore si annulla. Di conseguenza, proprio nei casi in cui t è uguale a meno 2, oppure t è uguale ad 1, abbiamo l'impossibilità del sistema, perché altrimenti, col metodo di Cramer, a quel denominatore avrei proprio un diviso 0, che non si può avere. E quindi questo è tutto l'esercizio. Con Cramer, diciamo, è molto facile la discussione, perché il tutto è meccanico e dipende da semplici prodotti. Se il video ti è piaciuto, metti like e seguimi sui vari social per aiutarmi a crescere. Se invece non ti è piaciuto, metti dislike due volte. Alla prossima! Grazie! 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 Grazie!